Un altro anno di malattia Si studia dal primo giorno Si studia subito Ce la dobbiamo Ce la facciamo fare Fra com'è andata la matematica? Ci vediamo a settembre Ci vediamo a settembre Fra, spagnolo ha chiesto i compiti Facciamo spagnolo? Stiamo a scuola Fra hai preso appunti? Quest'anno mi bocciano Quest'anno mi bocciano proprio Non capisco un cazzo Mancano 97 giorni di Natale 115 a Pasqua 215 giorni 394 giorni di scuola Vado a zappare la vita Vaffanculo Ma che ora sei andata a dormire? Scusami 5 ore di buono Ah E frate hai visto il nuovo libro di matematica? Ci sono tipo troppi esercizi L'hai anche comprato Ci serve fra Ma che Ragazzi Ragazzi avete comprato il nuovo libro di matematica? Domani compito sui nuovi argomenti Da pagina 289 a 315 Studiate mi raccomando Ma porco di Frate hai portato il libro di matematica? Sti giorni fa un ripasso Non lo sento Ma che te pare Non mica allusiamo Ragazzi non avete mica venduto i vecchi libri vero? Domani verifica su tutti i vecchi argomenti Perché il programma dell'anno scorso è fondamentale per quello di quest'anno Ma porco Spero che il video vi sia piaciuto Se così fosse mettete mi piace Commentate qualche altra categoria Che volete che i gore rappresentino Commentate comunque se ci volete vedere ancora su youtube Ok Condividete il video dove vi pare Fatelo vedere ai vostri compagni di classe Che vi stanno più sul cazzo Perché noi siamo la roba più trash di youtube Fermo Un saluto da Luto Seax Bond Ciao